No, l'ultimo non te lo fai. C'è una piscina di te. Forza, Valeria. Grazie a tutti. Forza, forza, continua. Siamo 36 a 8. Bravo, bravo, bravo. Forza, è così. Oh, bravo. Sì. Bella. Dai, bella. Gli amici! Copri e attacca! 40! Sottotitoli, Scigol, Trigoletti, Adà! Bravo! Secondo artesaticano, Ferrande Simoni, Artimanziari da Urbana! Wow! 10-0, subito le partenze! No, qui la prese! Forza, forza! Dai, Valerio! Buono! 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 Nadia! Busca! Busca! L'ultima chiamata per Pasquale Ireni. Pasquale Ireni. L'ultima chiamata, mezzo. Alessio, 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 l'ultima chiamata. L'ultima chiamata. bella 44 a 16 due punti bella 4 2 i i i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.